Cominciò ad avere rapporti con tutti i migranti del mondo. Fin da piccolo viveva in mezzo alle persone, a persone che avevano un sogno. Giannini divideva i proventi della banca. Pensate cosa sarebbe successo se nessuno avesse creduto in noi. Giannini è stato tra i primi a credere nella magia del cinema. E lui cercò di realizzare il suo sogno e il sogno di tutti. Giannini è stato tra i primi a credere nella magia del mondo.